Un saluto dal TG della mobilità al via i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile via Ugo della Seta via Monte Cervialto metro B1 Ionio. La lunghezza complessiva del tracciato sarà di 2,4 chilometri. Nel progetto definitivo è stato previsto il collegamento alle piste ciclabili già esistenti all'interno del Parco delle Sabine, oltre a due attraversamenti ciclopedonali su via Virginio Talli e sul viadotto Antonio Segni. Inoltre verrà realizzata una nuova ciclabile con affiancato percorso pedonale in corrispondenza dell'esistente camminamento posto al di sotto del viadotto dei Presidenti. Maggiori dettagli sul progetto per la nuova ciclabile di via Ugo della Seta. Sono su RomaMobilita.it